Ludovico Ariosto nacque a Reggio Emilia l'8 settembre 1474 e morì a Ferrara il 6 luglio 1533. Fu poeta, commediografo, funzionario e diplomatico. È considerato nella storia della letteratura italiana ed europea uno degli autori più celebri ed influenti del Rinascimento e viene ritenuto l'iniziatore della commedia regolare. Con il suo Orlando Furioso, tra i poemi più importanti della letteratura cavalleresca, divenne il codificatore della favola romanzesca e tra i massimi esponenti del Rinascimento ferrarese, assieme a Matteo Maria Boiardo e Torquato Tasso, anche grazie alla creazione di una caratteristica ottava rima definita ottava d'oro, che fu una delle massime espressioni raggiunte dalla metrica poetica prima dell'illuminismo. Fu un seguace delle teorie sulla lingua dell'amico Pietro Bembo, che applicò soprattutto nell'Orlando Furioso, prima opera di un autore non toscano nella quale viene usato il toscano come lingua letteraria nazionale. Tra le molteplici attività svolte nell'arco della sua vita, vi fu un importante incarico, come commissario estense a Castelnuovo di Garfagnana, il cui territorio Ariosto definì terra di lupi e di briganti. Infatti Alfonso I d'Este, consapevole delle necessità economiche del poeta, ma anche delle sue abilità come amministratore, nel 1522 gli affidò la gestione della Garfagnana. Quindi l'Ariosto partì per Castelnuovo di Garfagnana, quello stesso 20 febbraio, dopo aver fatto testamento e aver messo ordine nei suoi affari. La regione necessitava di un governo forte, sia per il carattere della popolazione, sia perché parte del territorio era in preda al banditismo. Il poeta si trovò nella necessità di contrastare tale fenomeno, che era particolarmente evidente nell'Alta Garfagnana. Tuttavia, malgrado i timori manifestati già prima della partenza, ricevette una buona accoglienza, per insino da masnadieri, uomini quasi ferini e privi d'umanità, che già lo conoscevano per fama sua del padre e della famiglia. Ma come egli stesso scrisse nel 1523 al cugino Sigismondo Balaguzzi, quell'incarico fu per lui pieno di frustrazioni e scontentezze, obbligandolo a un patetico tenore di vita, a subire un'endemica anarchia e alla lontananza dai suoi studi, dalle amicizie e da Ferrara. Si trovò comunque bene nella sua residenza a Castelnuovo, vivendo per diverso tempo nella Rocca, che in seguito avrebbe preso il suo nome. Durante la sua reggenza della Garfagnana, lo scrittore confermò le sue doti di amministratore pratico e giusto, contrastando l'azione dei briganti, mantenendo il controllo tra le diverse fazioni locali e superando i pericoli legati alle pestilenze e alle carestie, pur potendo contare solo su pochi armati, da lui personalmente stipendiati e dovendo mediare con un atteggiamento troppo permissivo del duca d'este. In particolare i suoi rapporti con il Moro, capo brigante, furono emblematici della situazione. Il criminale godeva della fama di difensore della povera gente contro il potere vessatorio del governo, mentre in realtà fu uno dei più feroci della Garfagnana. Ironia della sorte, quando a fatica l'Ariosto riuscì a catturarlo e condannarlo a morte, Alfonso d'este fece in modo di liberarlo. E questo perché spesso il bandito e la sua banda venivano arruolati come mercenari.